Il diritto all'interno di una dottrina e un'ideologia egemole che è quella del neoliberismo, credo che abbia una funzione principalmente, che non è quella di rappresentare soltanto la struttura economica, ma che è anche quella di dare la possibilità del darsi di questa struttura economica. Lo vediamo soprattutto in Europa e lo vediamo soprattutto nel ruolo che hanno le istituzioni sovranazionali e anche la dispersione delle varie fonti del diritto che si è data nell'era postmoderna o nell'era del capitalismo globalizzato. Ci sono molti fonti del diritto, la fonte principale del diritto non appartiene più allo Stato Nazione e questa sovrapposizione, questo intreccio, questa simultaneità delle diverse forme di produzione di norme, ovviamente crea una serie di problematiche allo Stato, crea una serie di problematiche a quella che inizialmente doveva essere l'istituzione detentrice come fonte ultima della decisione e di conseguenza anche dello strumento giuridico per eccellenza. quindi da questo punto di vista, ora non voglio dilungarmi troppo, però penso che l'attualità dei fatti in materia di politiche economiche e di politiche sociali sia abbastanza evidente sul ruolo che può avere un'Italia, una Grecia rispetto alle indicazioni che vengono da un piano sovranazionale e tuttavia vediamo di riflesso un ritorno alla sovranità dello Stato strettamente legata al diritto penale, strettamente legata al disciplinamento dei movimenti sociali, del dissenso e di tutti coloro che possono essere visti come dei nemici all'interno di questa società unitaria, come dicevo prima. Questo tipo di disciplinamento tuttavia opera un ulteriore passaggio che è quello della separazione completa tra fatto e norma. Se il diritto moderno nasce già di per sé sull'ipotesi anche giusnaturalistica della presenza del diritto completamente sradicato da una contestualità sociale che per esempio prima della modernità veniva fortemente presa in considerazione, adesso vediamo addirittura che la norma precede completamente il fatto, come si diceva quando viene appunto considerato quello che veniva chiamato il tipo di autore o la condotta in generale dell'individuo e non si va più nemmeno ad accertare che ci sia stata effettivamente un'attività che compie un reato, a cui si può attribuire un reato, ma viene preso indicativamente l'individuo nella sua virtualità di poter commettere reati, impotenza, come nemico interno che può più o meno riemergere all'interno di quella che è l'armonia sociale. Allora io penso che questo ovviamente da una parte confermi anche quello che prima Manconi chiamava l'emergenzialità del diritto, cioè che nel momento in cui c'è una sfera formale giuridica è possibile superarla proprio perché la presenza di un nemico permette l'uso o permette una diversa interpretazione della legge formalizzata, della legge scritta. E tutto questo ovviamente poi agisce in parallelo anche a una stereotipizzazione, anche a una criminalizzazione che viene data da un certo tipo di narrazione sia mediatica sia sociale, che entra all'interno dell'immaginario collettivo e qui ovviamente mi ricollego a quello che diceva precedentemente Davide rispetto a un nuovo tipo di mentalità che la nostra generazione sta avendo nei confronti dell'attivismo anche a causa di questo tipo di intimidazione e di questo tipo di costruzione narrativa in generale. Allora io chiudo e mi scuso se appunto ho buttato degli elementi di analisi in maniera veloce ma purtroppo il tempo è agli sgoccioli e chiudo però riprendendo quello che diceva Anna Maria Alborghetti perché mi è apparso molto interessante quando faceva riferimento a quella normativa se non sbaglio tedesca, una sentenza tedesca. Il fatto che la democrazia debba tollerare un certo grado di illegalità io penso che sia una lezione molto valida per tutti coloro che si pongono la trasformazione radicale dello stato di cose esistente. Penso che lo sia nel momento in cui ci si può ricollegare a una genealogia e a una etimologia del diritto che è IUS che inizialmente non era LEX, non era legge, la LEX era uno dei tanti strumenti a disposizione del diritto. Il diritto inizialmente veniva assunto come rivendicazione, una rivendicazione che poteva già essere data ma anche una rivendicazione che si poteva conquistare e quindi riprendendo anche una famosa espressione di Ann Arendt, cioè il diritto ad avere diritti, io penso che in una reale democrazia questo debba essere un po' diciamo uno dei principi fondamentali e costitutivi di una società più giusta e che possa finalmente ammettere le forme del conflitto sociale come un motore per poter migliorare le proprie condizioni di vita materiali.